Lavori al mercato, si va verso l'assegnazione dei nuovi box San Lorenzo, incontro tra commercianti e amministrazione comunale. Domani e lunedì si vota per il rinnovo del Parlamento e del Consiglio regionale, turde forze per l'allestimento dei seggi, nuovi orari per l'ufficio elettorale. Box, Montalto di Castro, Gianluca Branco difende con successo il titolo dell'Unione Europea dall'assalto del Polacco, Lukasz Maciek. Buongiorno e bentrovati a questa nostra edizione del telegiornale locale. Nuovo incontro giovedì 28 tra amministrazione comunale e tutti i mercatali. Il cantiere è infatti pronto ad essere smantellato e a breve, entro la fine di aprile al massimo, gli operatori del mercato potrebbero tornare nelle loro postazioni originali. Da effettuare però ancora l'assegnazione dei nuovi box San Lorenzo ed è proprio questo il senso dell'incontro che si svolgerà giovedì pomeriggio alla presenza dell'ingegnere Mencarelli, del sindaco Tidei, dell'assessore lavori pubblici Mirko Mecozzi e degli operatori. Data l'assenza delle vecchie postazioni, l'amministrazione comunale sta valutando una serie di proposte da presentare agli operatori per accontentare tutti nell'assegnazione delle nuove postazioni, dalla licenza più vecchia alle misure dei box. Decisioni che comunque verranno prese di concerto durante l'incontro di giovedì pomeriggio. Una volta assegnati i nuovi box, ha spiegato l'assessore lavori pubblici Mirkozzi, i mercatali potranno iniziare a prenderne le misure così da poter iniziare ad ordinare i loro banchi. Una volta montati gli accessori si procederà al trasferimento in massa degli operatori ed è proprio questo il motivo che ha spinto il sindaco Tidei a voler rimandare alla fine di aprile l'inaugurazione del mercato. Firmato a Palazzo del Pincio un protocollo d'intesa tra amministrazione comunale e asso balneari litorale nord del Lazio per la costituzione di un tavolo tecnico permanente che porti all'approvazione definitiva del PUA. Scopo del documento? Fornire un valido e costante supporto all'amministrazione comunale nella scelta da intraprendere o da incentivare, si legge e promuovere le attività turistico-economiche sul territorio nonché nella stesura dello strumento normativo e tecnico-operativo di disciplina delle attività turistico-balneari. Così facendo, amministrazione comunale e asso balneari si impegnano reciprocamente a condividere una proposta del PUA mediante un percorso di lavoro condiviso che dovrà contenere le informazioni e fornire le scelte da attuare e da sottoporre all'amministrazione comunale nella fase di stesura del documento PUA e dei suoi allegati. Inaugurati ieri pomeriggio il parco, la nuova sede Anmil, l'associazione nazionale mutilati di invalidi del lavoro presenti al taglio del nastro il sindaco Pietro Tidei, l'assessore dei lavori pubblici Mirko Mecozzi e rappresentanti regionali, provinciali e locali dell'associazione. È improvvisamente venuto a mancare Sergio Feoli, il funzionario addetto responsabile dei servizi idrici comunali. Lo ricordano con affetto il sindaco Pietro Tidei e l'assessore dei lavori pubblici Mirko Mecozzi. La scomparsa del caro Sergio è un dolore personale. A questo si aggiunge la consapevolezza della perdita da parte dell'amministrazione di un funzionario altamente preparato, portatore di una carica umana rilevante, oltre che di doti indiscusse di alta professionalità. La data delle elezioni, sia regionali che nazionali, si avvicina e dal Comune dettano le istruzioni per l'uso. Sentiamole in questo servizio. La data delle elezioni si avvicina e dal Comune dettano le istruzioni. Chiunque non abbia ricevuto a domicilio la tessera elettorale o chi deve chiedere non duplicato, potrà farlo presso gli uffici del Comune fino ad oggi dalle 9 alle 19. Uffici aperti anche domani dalle 8 alle 22 e lunedì 25 febbraio dalle 7 alle 15. Per poter raggiungere il proprio seggio di voto, il Comune ha istituito a favore degli elettori non deambulanti e portatori di handicap un adeguato servizio di trasporto. Chi è interessato può prenotare il servizio chiamando i numeri 0766 22 86 2 Telefax 0766 59 0502 0766 59 0510 0766 59 056 0766 59 0507 0766 20 28 6 Telefax oggi dalle 9 alle 19, domani dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15. Per quanto riguarda il rilascio delle carte d'identità, gli elettori potranno recarsi presso gli uffici comunali oggi dalle 9 alle 19, domani dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 7 alle 15. Il Comune inoltre rammenta che gli elettori non deambulanti possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del Comune, rispetto alla quale sono iscritti. Previa esibizione di attestazione medica rilasciata dalla ASL nei tre giorni precedenti la consultazione e durante le elezioni dalle 9 alle 12 presso l'azienda sanitaria locale. Confermata la condanna a 6 anni di reclusione per Paolo Morra, ispettore di polizia che nel gennaio del 2009 sparò con fucile a pompa al senegalese 42enne Sheikh Morioufdou, uccidendolo nel corso di una lute avvenuta in una località di campagna in zona Campo dell'Oro, dove i due risiedevano a pochi metri di distanza l'uno dall'altro. Per lui si sono spalancate le porte del carcere di Rebibbia. Si torna poi a parlare di amianto e dei danni provocati su diversi lavoratori civita vecchiesi esposti nei decenni scorsi. Dallo stato di salute precario di ciascuno di essi e dalle singole battaglie intraprese collina per il riconoscimento di un diritto. Diritto che se qualcuno è riuscito a strappare, altri si trovano ancora a combattere per ottenerne la semplice ammissione. Come nel caso di Emilio Scisciani, che diversi anni fa ha lavorato presso la centrale di Fiumaretta per tre anni e al porto in qualità di ormeggiatore, 18 anni, esposto quotidianamente alle polveri come testimoniato da alcuni suoi colleghi. Una questione inspiegabile, quella di Scisciani, nel quale sono stati riconosciuti solo i tre anni di esposizione all'amianto legati al lavoro svolto in centrale. E per il porto, niente. Nonostante il suo stato di salute racconti di un espessimento pleurico, i medici lo abbiano già messo in relazione con l'amianto. Alcuni enti pubblici dalla compagnia portuale alla capiteria di Porto hanno testimoniato a favore di Emilio Scisciani, raccontando il tipo di lavoro svolto presso lo scalo cittadino alla presenza di amianto, ma quanto pare per la pratica avviata nel 2003 è destinata a subire una trafila ancora più lunga prima di arrivare a maturazione. I ricorsi presentati dal lavoratore al no dell'Inei le sono arrivate in appello. Ora dovrà esprimersi la Cassazione. Ecco come fregare l'amministrazione comunale per evitare le sanzioni previste dal nuovo regolamento sulle affissioni pubbliche vietate. Diverse coalizioni e molti candidati che cercano di farsi pubblicità spediscono i loro attacchini a dar visibilità ai loro volti negli spazi non di loro competenza. Ovviamente questa attività è illecita, ma sotto questo aspetto il Comune non può fare nulla perché partiti e candidati hanno escogitato un sistema molto utilizzato in questa fase, e cioè quella di andare a denunciare alla Polizia locale il furto dei loro manifesti per poi ritrovarli affissi il giorno dopo nelle aree vietate. Ad affermarlo è il delegato all'affissione Alfredo De Antonis, il promotore del nuovo regolamento sulle pubbliche affissioni contro questi furbetti è difficile erogare sanzioni, con te commenta De Antonis dal Comune di Santa Marinella, perché vanno dai carabinieri o dai vigili urbani e denunciano il furto dei manifesti avvertendo che in caso di affissione loro non sono responsabili. Poi, come spesso accade, gli attacchini che solitamente provengono da Roma durante la notte imbrattano tutto e nessuno paga per queste attività illegali. Il fatto sta che questo scherzo costa al Comune centinaia di euro. La linea Civitavecchia-Capranica-Orte è un'opera strategica la testa all'Unione Europea. Lo dicono i vari comitati a sostegno della riapertura della ferrovia dopo il no dell'RFI durante l'incontro con la Presidenza dei Ministri in cui si è discusso del lab portuale di Civitavecchia. Un'obiezione che i comitati definiscono una sciocchezza enorme. E passiamo allo sport. Ieri sera al Parasport di Montalto di Castro Gianluca Branco ha difeso con successo il titolo dell'Unione Europea dall'assalto del polacco Lukasz Maciek. Andiamo ad ascoltare le parole che il pugile di Civitavecchia ha rilasciato ai microfoni di Sport Italia. Ci siamo, dai. Siamo sulla strada giusta. Lui era un avversario in 22 anni, quindi lui in conferenza ha detto che mi metteva capo ci poteva stare. Lui è il suo lavoro, no? È un ragazzino. Io ho trovato di qua un uomo esperto, un uomo che non vuole ancora perdere, un uomo che ha voglia ancora di fare a pugno. È dura per lui. Senti, ho ancora una domanda, poi ti lascio anche a Alessandro Turna. Dopo questa vittoria insomma, hai a tuo modo di dire qualche ragione in più per reclamare una nuova chance europea? Promesso, davanti a voi due. Questa la regalo a mia figlia Fabrizia. Non più al sindaco di Civitavecchia, no. Il sindaco l'ha rifiutata, e allora io la do a mia figlia. Lei ci gioca tutti i giorni. Gianluca, io ti faccio i complimenti perché ancora una volta hai dimostrato di cosa vuol dire essere un fugile con la passione, la serietà, avere un avversario più difficile del precedente. Sì, sono un po' scorbutico. Che per cinque riprese hai dato un fastidio perché tu hai preso il match dalla sesta ripresa e poi è stato un dominio. Sì, diciamo che al giro di bro ho cominciato anche a montare, no? E fammi dire una cosa che ho detto con le cose carriere. Col passare del tempo migliori sempre più. Sai cosa hai dimostrato oggi? Come si bloccano i colpi. Cosa che una volta non facevi ti chiudevi a Riccio quando hai fatto le corde e oggi ho lavorato bene con le spalle con la mano destra hai bloccato a cuore con la mano alla dura dai, sì, ci sono, dai, ci sono. E allora, insomma, complimenti ancora a Gianluca Branco. Sesta giornata di Serie A2 interessante per i colori rosso celesti. Un pare tra Napoli e Visnova una sconfitta della formazione dell'ex SNC Claudio Innocenti. Infatti potrebbe regalare agli uomini di coach Zimonic la vetta della classifica in solitaria. Prima oggi però bisogna battere alle 15 l'ansio dell'esodato Daniele Lisi in una gara che si prospetta ad alto quotiente di difficoltà specialmente se si considera l'assenza di Alessandro Calcaterra. Il centro boi è stato praticamente a disposizione solo nelle prime tre giornate poi la brutta influenza che lo sta tenendo lontano dall'acqua. Tre settimane di assenza a questo punto sembrano davvero tante per non cominciare a sospettare che i vecchi problemi alla schiena siano raffiorati dalla società profano sapere che si tratta solo di un'influenza e che il giocatore ora ha guarito ha bisogno di tempo per riprendere la forma ad onor di cronaca va comunque detto che la squadra sta facendo bene anche senza l'apporto del fuoriclasse in Civitavecchia nelle file dell'SNC intanto potrebbe rientrare lo squalificato Simeoni. Per il basket scende in campo oggi per il campionato di serie a tre femminile la Valentino Auto Santa Marinella che al Palla dei Angeli si affronta alle 18.30 l'Olimpia Corato di scena anche il Pirgi Santa Severa che ospita alle 19.30 la capolista Boville Marino. Per il calcio a 5 oggi andrà in scena dopo la pausa dei 21 giorni la stessa giornata del girone di ritorno del campionato di serie C1 l'SD Civitavecchia ospiterà il palazzetto dello sport alle 14.30 la formazione dell'ESU Sardenza 1990 l'Atletico invece sarà impegnato alle 15 in una trasferta molto difficile sul rettangolo dell'Artena. E chiudiamo con la palla a volo impegno interno per i team del comprensorio tutte e quattro le squadre locali scenderanno in campo oggi di pallavolo sentiamo i dettagli nel servizio di Riccardo Valentini Tutte in campo le quattro formazioni del comprensorio di pallavolo in serie B2 maschile la pallavolo Civitavecchia ospita alle 18.30 al palazzetto dello sport la capolista Civitacastellana i civitavecchiesi sono riduci da 4 successi consecutivi e sono determinati a continuare questo cammino il Civitacastellana non è di certo primo per sbaglio afferma il tecnico Pignatelli sono una squadra quadrata e molto fisica con un ottimo palleggiatore e dei gorilla in banda a schiacciare noi nell'ultima partita abbiamo messo in mostra un buon muro e delle belle battute dovremmo partire dalla conferma positiva di questi fondamentali e giocare molto concentrati sempre in casa Asp impegno esterno per la Tireno Power in serie C femminile alle 18 a Minturno provincia di Latina le ragazze di Diremigio cercheranno una difficile vittoria contro le quarte in classifica passando invece alla Civo Volley la Comal dovrà vincere per forza in serie B2 femminile alle 16.30 a Frascati le Civitavecchiesi sfideranno una diretta concorrente per la salvezza dopo il capo di Anguillara sarà necessario vincere per risalire la graduatoria perdendo viceversa la situazione si complicherebbe e non di poco chiude il programma la C maschile della Civo Volley la Privilege sarà di scena alle 20 sul campo del Torzapienza ma con Gabelli e Ceccarini out per infortunio ottenere i tre punti sembra davvero difficile per i ragazzi di Franco Accardo scenderemo in campo questa volta di sabato gli atleti dello Sniper Rosati utensile 18 da Riccia contro il Genzano si giocherà la seconda giornata di ritorno del campionato di Hockey Line di serie B e con questa notizia abbiamo chiuso questa edizione del nostro telegiornale grazie per averci seguito e buon proseguimento di visione dei nostri programmi e vi ricordo che per ogni notizia in tempo reale potete consultare il nostro sito www.civonline.it www.civonline.it